Un saluto dal TG della Mobilità, secondo appuntamento a Piazza del Popolo questa sera con i concerti di Team Summer Hits sul versante della viabilità, la sosta è vietata in Viale Gabriele D'Annunzio sulle rampe che da Piazza del Popolo conducono a Via Ferdinando di Savoia, dove il divieto è da Via Principessa Clotilde a Piazza del Popolo e ancora in Via del Corso, Via dell'Oca in Via della Fontanella e a Via Brunetti, dalle 18 a mezzanotte oggi e domani chiusura in Via del Babuino sull'ultimo tratto da Via del Corso tra Via Brunetti e Piazza del Popolo, Via di Savoia e Viale D'Annunzio con traffico deviato su Via di San Sebastianello, sempre dalle 18 senso unico di marcia in Via dell'Oca con obbligo di svolta su Via Ripetta e in Via della Fontanella con svolta su Via del Corso e Via Brunetti da Via Ripetta a Via del Corso. è tutto, appuntamento alla prossima edizione.